Cercasi Catering per scambio merce e matrimonio. Non è un annuncio su Portobello, ma l'appello sincero di due ragazzi lucchesi che per coronare il loro sogno d'amore hanno avuto una pensata del tutto originale. Farsi sponsorizzare la cerimonia anunziale. In cambio, Valentina e Nicolas promettono pubblicità ai loro inserzionisti per i prossimi 19 mesi. Il matrimonio sponsorizzato è molto diffuso negli States, ma qui da noi è una rarità e chi ci ha provato non è ancora riuscito a realizzarlo a costo zero. Loro sono davvero ad un passo dalla meta. Fiori, fedi nuziali, una villa da sogno, l'abito bianco, la limousine, bomboniere, torta a biani, wedding planner. Valentina ha provato anche a contattare il guru Enzo Miccio, che però non si è degnato di rispondere. Servizio fotografico, partecipazioni, c'è proprio tutto. Perché il grande giorno sia perfetto, mancano parrucchiere, truccatrice e quartetto d'archi, ma le trattative commerciali sono in fase avanzata. Lo scoglio più difficile rimane invece il catering. La parte anche più costosa, penso, da fornire come sponsor via per un matrimonio? Avete avuto offerte, diciamo, di cambi merce parziale, no? Che potrebbe anche andar bene, però quasi, come dire, per una sfida che ormai volete vincere, il vostro obiettivo è trovare invece un catering che il servizio lo offra a costo zero. A costo zero, un cambio come il vecchio baratto di una volta, un cambio di una pubblicità per 19 mesi, fino a dicembre del 2014. Noi offriamo la pubblicità sulle nostre varie pagine e lui offre il servizio a costo zero, come hanno fatto, d'altronde, tutti gli altri sponsor. Valentina, insomma, è agguerrita e non smetterà di cercare. Perché fermarsi proprio adesso e non puntare al massimo con il primo matrimonio in Italia completamente sponsorizzato? Per una volta facciamo pubblicità gratuita. Valentina e Nicolas se lo meritano. Se volete informazioni ci sono la pagina Facebook, desideriamo dirci sì con gli sponsor e Twitter, twitter.com slash sposi sponsor loop, un canale YouTube e una mail,